la ricerca del brano musica tua è stata la risposta che mi è arrivata dopo una grande ricerca ed è giusto e saggio e per fortuna anche se non su unicchio più non so da quanti anni credo di essere in grado di preparare un brano da rilassamento per aiutarvi attraverso la musica ad entrare nelle dimensioni dello spirito dove finalmente la vostra anima potrà manifestarsi appieno buon viaggio amore e pace